Bentornati a un nuovo video dedicato a Infinity Magic Ride e buon inizio settimana Come ogni lunedì è uscito già il nuovo banner per questo weekend con l'elenco di tutti gli eventi di questa settimana Abbiamo oltre gli eventi classici settimanali presente l'evento sul pattinaggio su ghiaccio Martedì 23 inizia l'evento attraverso il quale viene aumentato il pool rate degli eroi epici E in questo weekend abbiamo il doppio dei leggendari Nel senso che nel momento in cui noi andiamo a trovare un leggendario in automatico ne otterremo un altro in modo gratuito In più questa settimana abbiamo l'evento cerca gem della durata di 6 giorni Come funziona questo evento qui? Partiamo inizialmente con 10 picconi e in più nel negozio oggetti il giorno 1 possiamo acquistarne 6 Questo l'acquisto dei picconi per gemme vale solo per il primo giorno Una volta acquistati i 6 picconi più i 10 ai nostri disposizioni e andando a cliccare su estrazione automatica Andremo a completare il primo giro Girata le 16 caselle passiamo al giro 2 e avendo completato il giro 1 otteniamo questa cassa Con all'interno 5 leggendari ovviamente noi dobbiamo scegliere solo uno Io tra i 5 ho scelto Dakota perché era già esclusivo 4 e l'ho voluta fare esclusivo 5 Anche perché è un evento che comunque è già 2 o 3 volte che mettono sempre poi gli stessi eroi Per cui nelle prossime volte magari potrei puntare su altri leggendari Inoltre usando 15 picconi ci danno gratuitamente 5 frammenti dell'anima di fantasma del colpo gelido E aprendo altri picconi abbiamo altre ricompense Con 65 abbiamo più frammenti Se ne abbiamo 100 abbiamo i frammenti per forgiare l'equipaggiamento Con 135 abbiamo altri frammenti ancora Abbiamo il giro 1 abbiamo già parlato fino ad ora con la cassa dei 5 leggendari Il giro 2 possiamo scegliere o prendiamo la cassa con all'interno i frammenti Se di bestia o i frammenti degli artefatti sempre da scegliere Oppure una cassa con all'interno 3 limited o le rispettive icone Ovviamente se ne sceglie sempre una Il giro 3 invece Il numero di frammenti questa volta aumenta E viene aggiunto anche quest'altra bestia spirituale Mentre nel forziere dei limited vengono aggiunti Il coniglietto, ester, lidia, hang 3 Zuccante, little jack, no no Jingle bell, beatrix Sun wukong Mi sfuggivo in nome Ovviamente oltre ai limited abbiamo le rispettive icone Giro 4 infine Abbiamo sempre lo stesso numero di frammenti Quello che va a variare è nella cassa limited E ci viene messa la nostra bellissima erato Per cui in soldoni Il giro 2 Per completarlo abbiamo bisogno di 5, 10, 15, 20 25 picchetti 25 picconi anzi diciamo I 25 picconi hanno un costo di 20 Qui ne prendiamo 20 Al costo delle 50 Gli altri 5 qui quindi con 60 euro Avete la vostra copia Volendo o di un limited O dei frammenti Per le bestie spirituali Se dovete scegliere tra le bestie spirituali Io vi consiglio di optare per lei La cerbiata Mentre per quanto riguarda i limited Sono tutte e tre fondamentali Io potenzialmente Io probabilmente inizierei con Nicolas a farlo subito ai 3 E poi concentrarmi magari su Jack Junior Little Jack Tra le altre ricompense Andando ad estrarre le gemme Abbiamo Le rune eccelse Le rune supreme Oggettini che riguardano le bestie spirituali Altri oggettini che servono per forgiare Gli equipaggiamenti Le rune icone E le monete Parliamo un attimino del banner Il banner questa settimana presenta Moloch Tez Pocas Zora E Andras Sono tutti personaggi molto buoni Principalmente sono ad uso Fazione Con magari qualche eccezione Come può essere Pocas E Zora Che si possono usare Volendo Pocas Anche in arena E Zora Può essere usato nel team Veleno Sia per quanto riguarda Costa Tempesta Ma anche Nel nuovo contenuto Sette saggi di Gliuli Infatti Coincidenza Quest'oggi abbiamo Il boss Nel quale si deve usare Il team Poisoner E Zora Non è usata tantissimo Ma qualche team Lo usa Come ad esempio Brigant Che è settimo al mondo In questo momento Roxima Lo usa lo stesso Gingerix Lo stesso E così via Quindi È un personaggio Che in un determinato team Fa la sua porca figura Per quanto riguarda Dez Invece È un personaggio Che si usa Principalmente Nel team In Costa Tempesta Ma Lo si deve usare In coppia Con Bofani Solamente lui Serve a molto poco Quasi a nulla Quindi Se avete Bofani E vi manca Dez Potrebbe essere Una buona opportunità Di pullare Questo weekend Personalmente Credo che questo weekend Andrò ad aprire Soltanto 150 Desideri Eccelsi Giusto per avere I due Leggendari Sperare Di trovare Qualcosa Di utile E mi fermerò Subito Il resto Aspetto I prossimi Limited Detto questo Vi saluto E ci vediamo In un prossimo video In un prossimo video E ci vediamo Vi saluto In un prossimo video